Ciao belli! Momento storico, siamo su Royale con Ciccio. Ciccio come stai? Ragazzi sto bene, video incredibile, ripiamo YouTube Italia, grazie mille per l'invito anche sul tuo canale, è veramente un grande grande piacere Ciccio io penso che questo sia il video più atteso dell'ultimo lustro Penso anch'io, lo penso anch'io Tutti lo volevano, tutti lo aspettavano dopo i diss, ci saranno anche altri diss Siamo finalmente su Royale per giocare insieme, ce l'ho già tra gli amici, partiamo, facciamo partite, non lo so Anzi, giusto, per un video del genere, sul tuo canale abbiamo chiesto 50.000, proviamo a chiederli pure qua, 50.000 sono tanti Ragazzi sono tantissimi, allora sul mio canale è uscito un altro video dove abbiamo fatto sempre i 2v2, regà è successa una roba pazzesca E vabbè, dovete vedere Passatici Qui ragazzi succederà un'altra roba pazzesca, e ve lo dirà Grax tra poco, con quale deck vogliamo giocare? 2.6 e 2.6, deck mirror in 2v2 Regà, da sentisse male ti mando la richiesta, let's go! Mamma mia! Mandamela perché sei buggata, lol, eccoci Si parte, è troppo potente sta 2v2 Allora regà, calcolate che il 2.6 è inutile dirlo, è di Grax, io non sono così capace ad utilizzarlo No, impazziscoci se perdiamo un disastro No, 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 no Allora, tocca a fai seri, attenzione, allora io vado dei cannone, se tu ce la Fireball, bravissimo Eh, certo, mica sto qua a falla all'ero Ragazzi io c'ho paura Desta partita Perché qui C'è sta in gioco tutto Ma poi contro italiani Te giro su dio Cioè potevamo veramente Succede qualsiasi cosa Bravo Ci sta Io ti seguo la fireball Eh certo lo so Lo so lo so Prendete uno push Uno difende Sarà così E vabbè No Non mi direi Che anche loro Sono mirror Dici eh Non ci credo Allora questi Vanno giù facile Ok Ok Guarda abbiamo difeso Un botto di risire Bro ci sto se vuoi Vado io Te c'hai fireball E tronco Fireball Bravissimo E chip damage Eh ci sta Eh ci sta Però non credo Che possiamo fare Chissà che cosa Eh non sarà semplice Però secondo me Si può fare Io ve lo dico Rega c'ho il cuore Mi sta impazzito Perché è una partita Tostissima questa No sì sì Ma assolutamente Non è una roba Fuori di senso Proprio Ok Eh Eh Mo che famo Ma tu pensa Questi se ci conoscono Stanno a morire Stanno Non lo so L'infarto Ma loro giocano Cioè Continuano a giocare O hanno capito Contro chi stanno E non so magari Se sono andati su youtube A vedere Ma stanno live Stanno a giocare live Eh Sai che ci dovrebbe Stare Senti io Tiro un cannone Bravissimo Fireball veloce Tolgo tutto Perfetto Eh l'allero però Però Se io faccio effetto Surprise Tu mi metti Un moschettiere con geno Bravissimo Eh sì Faccio così Faccio così Scheletrini Ci abbiamo un'orda De scheletri Praticamente Sarà veramente difficile Congelino Brava anche il golem Del viaccio Sì sì Lo porto sul moschettiere Ottimo Sarà veramente O andiamo di doppio hog E io non ce l'ho Però tu lo potresti mettere Se vuoi Eh lo so Ma è abbastanza Mini pecca Lo facciamo Va bene Madonna No 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 Mica stiamo a giocare No Eh l'allero Pure Vabbè non dovrei Ci metto il golem Stiamo tranquilli Guarda Va bene Nel dubbio Va bene così Ragazzi è tostissima Bravo Ci può stare Log io Eh Ma raga È difficile Cioè è difficile Perché così è difficile Tocca Bravo Ci sta Ci sta Mamma Solo doppia Doppia terremota Il panico Sono una hit Probabilmente Sai qual è il problema È che comunque Loro riescono comunque A hittare Secondo me dobbiamo andare Dio doppio Domatore Eh ci può stare Però come lo mettiamo Però mandano tutti I due sulla destra No vai carica giù Vai Tesla Ok Fireball giù Vai Oh 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 Sono passati Sono passati Ciccio Vai Dovete menare Va bene Va bene Abbiamo recuperato con push Non ci credo Non ci credo Occhio Si può fare Madonna mia Va bene lì il tronco Il cannone Perché almeno Eh però forse una hit Ci arriva Eh Diciamo proprio di sì Pure due Ci sta Ci sta Ci sta Ok una Eh Lo rifamo Lo rifamo Eh no Lo dovremmo rifare Lo dobbiamo rifare Quello va giù Aia Anche loro c'è uno Il mirror comunque Che sfiga eh Sì sono d'accordo Però va bene La Fireball l'ha messa a destra Stanno cercando di buttarci giù Vai 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 dettomatore Vai dettomatore Vai dettomatore Ci provo Non so se ci abbiamo Ultè Eh No Dobbiamo rifarla È stata un gran match Ma per forza Ma per forza Oh A un momento Abbiamo rischiato tantissimo Cioè un momento Abbiamo rischiato Allora Sai qual è il problema È che col 2.6 L'hai mandata a te Invece lo domanda io Col 2.6 Vai vai Ma è giusto Perché Se no non c'è la magia C'è ragione Oh Peccato perché loro C'erano quel gigante royal Che comunque una hit 2 Ogni volta che lo ciclavano Eh quella di entrava Poi Terremoto doppio Andecca pesante Ci ha detto spiega Sì Sono d'accordo Facciamo così Sì Io magari cambio lane Quello dovrebbe andare dritto il mio La roba che arriva Domatori su domatori ragazzi Ok Ma queste partite sono Veramente difficili eh Cioè Eh sì Ma veramente tanto eh Però non si poteva non fare Nel senso Questo è È un video troppo importante Ok Lì tra poco La tronco Gliela dirò io Quando si aprirà Il vaso di Pandora eh Vai Ce l'hai Facile Io supporto Il moschietti Magari facciamo un danno in più Ci abbiamo la torre di sinistra Ok Questa è spiega Questa è veramente spiega Devo dire che Probabilmente Considera un altro deck counter Però 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 Non Dove va Io ti giuro Sì Io ti giuro Va bene Va bene Se tu metti un domatore a sinistra Va dritto in teoria Però devi metterlo all'angolino Eh troppo dare Ci sta Eh l'allero Ma un altro deck mirror Ma io non ci vedo Però delle volte Clash Royale Veramente è un po' buzzarro Come 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 match Bisogna alzare l'asticella qua Match Match strano comunque Bravo Ritornate qua per favore Che c'è un attimo Una cosa da tib Oh my god Artux è difensivo Quindi al momento è no Se ci tiriamo la fireball Dovrebbe andare giù Eh ma ci hanno Probabilmente Veramente due deck Identici anche loro Eh sì Pazzesco L'ho missato L'ho Guarda Può capitare Ti dico la verità Vabbè comunque è difensivo Vai Fireball Per forza Non possiamo stare con la struttura Che ci targetta Che sfiga però Questi in overtime Ci fanno Una roba Devastante Prendiamo lo spiritello Secondo me è possibile No è possibile Ma o andiamo di doppio Oggi Io provo a sinistra Vai No no pure io Oh la messa troppo avanti La capanna Buono log Loro hanno girato molto bene Però ci stiamo Tanto per cambiare Questo è un bel log Questo lo fermiamo così Vabbè ma è clamorosa questa cosa Mamma mia ma davvero ma Ma mo va bene tutto Ma uno ma che cosa si deve inventare per vincere Cioè nel senso Stiamo difendendo da Dio eh Cioè da Dio proprio Stiamo andando bene infatti Domatore Arquix Eh vabbè doppia struttura Mamma mia poi doppia struttura difensiva La sentisse male eh Supportiamo le mosche Oddio però hanno sprecato un sacco O dobbiamo ripartire violentemente Sì questo lo provo a far andare a sinistra Vai Grande C Ci provo ma Eh l'allero Altra struttura Non so quante gliene rimangono Mamma mia mamma mia 200.000 guarda Sicuro Bello il predico Eh ci poteva stare qualcosa ho preso Eh ci poteva stare sì Oh signore Aiutaci tu Una la vinceremo No ma Quanta roba ci hanno Mamma mia mamma mia Butta tutto in mezzo E qui dobbiamo girare moschettieri Dobbiamo girare quella roba eh Questo lo Sistemo io a sinistra Qua sistemo io a destra Bravo moschettieri Ma come facciamo a resistere È già un miracolo resistere Poi c'hanno la La terremoto Ti giuro ma è una roba È incredibile No dai Non ci credo Ma ci dice spiga No non ci credo No vabbè ma che match up ragazzi Qui da impazzire Ti gioca porca Dobbiamo vincerla Cioè Non me ne frega niente Dobbiamo comunque vincerla In qualche maniera Non è possibile Non si può Non vincere una partita A doppio 2.6 No 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 Ma poi lo stiamo giocando bene Stiamo veramente difendendo bene Cioè ci ha dato due match up Veramente spigatissimi Ma dai veramente Ma neanche a di che stiamo facendo ladder Esatto Vai Io provo subito un push Dinamico Vai vai C'ho C'ho la sfera Vai Eccolo Ci sta Tolta Sì però Potevo Vabbè no oddio Effettivamente I danni sono entrati Si difende Ok Log Mi sa che non prendo la princess Però quello corre indietro E va benissimo Trovo io princess E faccio il barbaro Bravo Mamma mia che hype Metto io un cannone difensivo Si Perché non voglio prendere danni Da spiritelli Giusto Magari leggermente più dietro La prossima volta Però per il resto Congelino Buono E l'utilizzo per quello successivo Ottimo Io Vai perfetto E ti tiro un congelino Bravo Così almeno Hai capito Che roba Questo lo fermo Ok Non ho preso il danno Dello spiritello Taci Guarda Se tu vai a destra E vai a sinistra Vai 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 Questo è l'attacco giusto Chi se ne frega Va bene Tanti danni Guarda che il donatore Ha fatto parecchi danni Io ho il moschettino E poi posso utilizzare in difesa Sia per Valkyria Ecco Là un po' più complicato Però il congelino è buono Gli scheletrini pure Fantastico Qualche sgherro Sono riuscito A togliermene uno Di sgherro Non due Sì ma considerando tutti I danni che abbiamo fatto Va bene Sì sono d'accordo con te Torre Messa un po' così Log Possiamo anche Prenderci del danno Lì secondo me Io questo lo faccio così Che ti dico Guarda che l'ho tirato bene Sì 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 No perfetto E dovrebbe attivare Pure la centrale Altro cannone Ok L'ho messo alto Ma per paura ragazzi Devo mettere per forza Senti Vado a togliere la struttura Con la fireball Tanto Ok Ho preso pure Solo che Tu c'è log Faccio io Faccio io Va bene Domatore che parte Valkyrie Allora non c'hanno l'isir Domatore che fa forse Due o tre Due danni Potremmo quasi Ciclare la fireball Sì se ce l'hai Io la metto qua No la metto io La metto io Ok Io la metto qui Bravissimo Eh va bene ci sta Abbiamo Ma oddio ti dico Uno di vita Ci metti il domatore Mamma mia l'ho messo Doppio Non ci credo Mortacci vostri Ragazzi ce ne deve Entra una Non c'entra Difficilissimo Però possiamo farne Almeno Tanto loro piacciono I video lunghi Ne facciamo una Seria Dei tech seri Per favore Va bene Partita serie È stato video goliardico Ci siamo divertiti No vabbè Non è che è stato goliardico Che abbiamo provato L'impossibile Cioè non è che Veramente è una roba Non ho niente con cui difenderti Ma neanche volendo Non è un problema Perché si puscia Adesso facciamo Lasciamela viva Lasciamela viva Quella strombola Sì 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 Ma gli ha la manetta Ma mi arriva una fireball gigante Cioè non è che Aia Ok E mi tocca mettere il pyro Puliamo Ok Il pecca li ha massacrato Piro tecnico che funziona Ma gli ha i maiali che partono Via E dai questi maiali Su Bellissimo Tutto perfetto La fireball è top Se la strega Ah Ci stava Ecco Io non ho elisir Dipendo io E log Bellissimo Bellissimo Guarda papà che ti mette Guarda papà che ti mette Bravo Sì Belle ste frecce Grande giocatore di Fortnite Mi sa che qui gliel'attiviamo No è già attivato Tomatore Ok Occhio io sono sotto Delisir Eh ma mi sa che pure loro Ragazzi vi dico una cosa Giocando di X-Serie Un'altra cosa Totalmente Ma per forza Non c'ho la cosa La strega madre Eh non ce l'ho Vabbè c'è una Valkyrie Molto tranquilla Ok Anzi vi invito Link in descrizione Link Ci sarà il nick Cliccabile Cliccatelo perché Vedrete delle belle partite Sul canale di Ciccio Metti scheletrini Oh questa è buona Ah è l'allero Una zap ci può stare Sì perché così Almeno qualche danno Fa qualche danno Capito Almeno qualche danno L'abbiamo portato Ok Questo va giù facile Oddio ce l'abbiamo la roba Tu avresti una Fireball Per toglierla No non c'ho un'altra idea Sì ci sta Perché così faccio fuori Anche lo stregone Ci sta Io qua do Terremoto Almeno togliamo tutto Sì ne Non è un problema Non è un problema Ottimo Non è un problema Guardalo Ciccio Come gliela schilla Vai Vieni qua Va Bello te papà E uno E due Vai domatore No Ma no Vabbè log Questo me lo porta a casa Siamo pieni di roba Bravissimo Ma il pescatore Mi piace giocarlo È molto difficile Perché per carità del cielo Madonna Santissimo Vai così Ho visto una pulizia Incredibile Non so tu Allora questa Voice nel chilling Questo che significa Che ritorneremo Non vi preoccupate Ritorneremo Con partite serie Però vedete Una partita seria Comunque l'abbiamo vinta Perché se no È certo Non è che Non è cattiveria È stato un bel video Comunque ci siamo divertiti Momenti altissimi Stupendo Stupendo Da rifare assolutamente Assolutamente Ragazzi mi raccomando Like Iscrizione Cappanella Ciccio lo conoscete Comunque lo potete trovare Qui sotto in descrizione Ma anche credo Nel nick Nel titolo Perché se può cliccare Potenti mezzi di youtube Codici Crax Codici Ciccio Gamer E niente Ve voglio bene Grazie Ciccio Per questo video storico Prego è un piacere Ragazzi Mi raccomando Fateci sapere Che cosa ne pensarete Dei due video E fateci sapere Se volete il 2.6 Di nuovo da Crax O se lo volete a me Insomma Decidete un attimo Perché abbiamo delle belle sorprese Per voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a te Ciao ragazzi Ciao 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 ciao